ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video visto che siamo già arrivati ad ottobre niente ho cominciato a creare delle creazioni in stile e vabbè non in stile a tema halloween questo video è in collaborazione con gea gaia troverete il suo link in giù in info box e voi non lo sapete ma per me halloween è una delle feste più belle che ci siano cioè mi piace tantissimo e niente adesso andiamo a scoprire insieme le creazioni per prima voglio però farvi vedere questa che sono sicura al 99 per cento che sarà un epic fail da non è dai così male praticamente qualche brillantino è andato davanti come potete notare qui perché tipo il lo sticker si è rialzato mentre che stavo colandola la colla a caldo è qui è andata avanti non fa niente dai carino lo stesso lui è boogie man con jack pipistrellini e vedo vedo sento prendo non mi ricordo sono tre bambini malefiche malefici comunque qui poi c'è il paese di halloween troppo troppo bello questo sticker stavo posando di nuovo e niente andiamo avanti e vediamo questo di qua questo è troppo carino guardate che è venuto bello il minions vampiro è troppo troppo carino mi piace un sacco spero che anche a voi vi piace guardate che bello sì sì questo questo sticker è veramente stupendo poi i dentini io adoro i vampiri sono contenta come è venuto e adesso andiamo a vedere questi guardate che carino spettrale sì qui dovevo mettere un po più brillantini ma ho messo uno sticker con una casa stregata un albero e dei come si chiama dei pipistrelli le cose così cupi mi piacciono un sacco sono bellissime andiamo avanti vediamo questo wow guardate che bello il gatto nero sicuramente questo piacerà ad ali crafty perché lei adora i gatti neri vabbè anche a me piacciono i gatti neri anche anche se il mio gatto preferito è il gatto sfinge perciò non è né nero né bianco solamente color pelle veramente bellissimo è venuto questo mi piace un sacco poi andiamo avanti qui c'è l'ultimo wow che carino ci sono tutte diciamo le tipiche decorazioni di halloween il fantasmino la zucca il pipistrello poi ho messo i brillantini e tipo paillettes questa forma di stella e questi qui normali arancioni è venuto troppo carino questo che sono belli e niente i miei preferiti di oggi sono questi due devo essere sincera allora questo minione questo gatto poi come sempre nei commenti qui ovviamente dovrò tagliare e sistemare questo come si chiama questo questa creazione voi ovviamente come sempre lasciatemi nei commenti fatemi sapere nei commenti qual è il vostro preferito ma guardate quanto è carino troppo bello sono diventata cretina ok come vi ho detto fatemi sapere qual è il vostro preferito nei commenti mando un grandissimo bacio e un forte saluto a gea gaia grazie per questa collaborazione ti mando un bacino e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao